E quindi per un po' di sta se strava sia pagamento oppure no è fondamentalmente irrilevante. Non so se in psicologia esiste una teoria secondo la quale perdere una cosa che si poteva prima utilizzare per tantissimo tempo e che invece ora per poterla sfruttare bisogna pagare, questa teoria magari dice che questa cosa può far incavolare tantissime persone. Di fatto sembra che nel mondo sportivo questa cosa sia veramente successa dal punto di vista tecnologico. E in effetti Runners World, uno dei più famosi giornali di corsa al mondo, ha sottolineato qualche giorno fa che strava ora è a pagamento. Ma è davvero così? Per chi fosse giunto ora sul canale io sono Massi e con Andrea e Cesare parliamo di argomenti che girano intorno al mondo della corsa. Ho preferito aspettare qualche giorno prima di commentare questo articolo di Runners World in cui si cita che strava è a pagamento. Strava che cos'è? È un'app che viene utilizzata in questo momento da un numero significativo di podisti e sono infatti 55 milioni di persone che in tutto il mondo utilizzano quest'app per tracciare le proprie corse e i propri allenamenti in ciclismo oltre che in ulteriori sport. Sappiate che alla recente maratona di New York di novembre oltre 17.000, ripeto oltre 17.000 persone, ossia il 32% delle persone che hanno partecipato alla maratona ha utilizzato strava per tracciare e misurare il proprio risultato alla fine della maratona di New York. Per chi non lo sapesse, nel 2013-2014 sono stato una sorta di ambassador di strava in Europa e mi sono occupato di aiutare gli sviluppi e ancora oggi seguo abbastanza da vicino lo sviluppo di questa app. Ho partecipato alla realizzazione delle guide locali, in particolar modo di quella di Milano, dove ho indicato dove si poteva correre in maniera del tutto tranquilla. Solo la prima versione perché poi strava ha deciso di utilizzare l'intelligenza artificiale che ovviamente non è ancora così intelligente come dovrebbe e in effetti ha costruito qualche obrobrio, come vedete in sovraimpressione. Nel 2017 avevo fatto un'analisi statistica dei podisti presenti su Strava, analisi che purtroppo è superata anche perché la crescita esponenziale di questa app è notevole. Nel 2020 la crescita è davvero stata esponenziale al punto tale che nel febbraio del 2020 si è raggiunto il numero di 50 milioni di utenti e nonostante il coronavirus oggi Strava conta ben 55 milioni di utenti, cosa che ci fa dire che oramai cresce più di un milione e due al mese. Ma esattamente una settimana fa il mondo del podismo ma soprattutto quello del ciclismo è rimasto sconvolto dal fatto che prima le funzioni o molte di quelle funzioni che erano gratuite sono passate a pagamento. Tra l'altro facendo qualche conto della serva, tra il 3 e il 4,5% dei 55 milioni di atleti presenti su Strava sono italiani, 40% di questi sono podisti, 50% sono ciclisti e solamente tra il 3 e il 5% di noi pagano il canone annuale di 60 euro che consente di avere Strava Premium. Ovviamente non potrò parlare di quello che succede nel mondo del ciclismo, anche perché comunque le statistiche e le metriche che si utilizzano sono completamente diverse, però quali sono stati i principali cambiamenti in quello del podismo. Guardando diversi siti si potrebbe perdere delle ore per capire quali sono i cambiamenti principali, ma di fatto si assumono in tre. Il primo sicuramente sono i segmenti, il secondo gli allenamenti personalizzati e il terzo la visualizzazione di alcune metriche personali che noi podisti tendiamo a utilizzare in particolar modo alla fine dell'allenamento. Per quanto riguarda i segmenti, che è stato il primo e più importante cambiamento, segmenti che sono in effetti delle tracce virtuali con le quali confrontare i tempi e le prestazioni dei vostri amici, nonché di tutte le persone che sono passati su quel particolare segmento, prima si poteva vedere tutta la classifica, ora la classifica è limitata soltanto ai primi dieci, si può comunque creare un nuovo segmento, si può comunque visualizzare il proprio miglior tempo, però non si può in effetti confrontare il risultato rispetto a quello dei vostri amici. E voi mi direte chi se ne frega? In effetti chi se ne frega, perché comunque se per il ciclista questa è una funzione fondamentale, cruciale e importantissima, per noi podisti non lo è così tanto. A meno di vivere in una grande città, a meno di correre in un parco dove ci sono tantissimi segmenti, è difficile pensare che in una corsa di 10, 12, 15 chilometri, ripeto guardate poi l'analisi che ho fatto nel 2017, troverete che pochissimi utilizzano questo strumento. Si è vero i segmenti sono tanti, ma anche in un lungo di 30 chilometri non troverete molti segmenti, come invece succede per chi va in bici e fa un lungo di 100, 120, 200 chilometri. Il secondo cambiamento è relativo all'allenamento settimanale. Questo secondo me è un vero problema. Se prima potevamo controllare, visualizzare in un arco temporale di un mese o due mesi qual era la nostra evoluzione dal punto di vista degli allenamenti, con una colorazione molto interessante e visualmente appealing, oggi questa cosa non è più possibile e bisogna passare a premium. Inoltre sono state tolte alcune statistiche personali. In primo luogo il ritmo in base alla pendenza. In effetti non correndo in piano, io qua nella Valle Olona mi capita spesso di salire e scendere, se correte comunque un collinare prima potevate vedere in maniera semplice quale sarebbe stato il vostro tempo equiparato a una corsa in piano, oggi non lo potete fare a meno che di poter comprare, acquistare a 60 euro il vostro abbonamento premium. Si è perso inoltre il confronto con le uscite precedenti sullo stesso percorso, informazione davvero molto utile soprattutto per il passaggio da una stagione all'altra quando siamo in grado di valutare se il 5 maggio del 2020 avevamo ottenuto lo stesso tempo rispetto al 5 maggio del 2018 dove molto probabilmente eravamo nello stesso, tra virgolette, periodo di forma. Ma tutto sommato Polar Flow, Garmin Connect oppure Sunto App offrono comunque già molte di queste funzionalità se non addirittura informazioni ulteriori e superiori che permettono di confrontare e controllare i propri dati degli allenamenti rispetto a quello che avete fatto precedentemente. E quindi fondamentalmente se per un ciclista era importantissimo avere i segmenti, per un podista il fatto che Strava tra virgolette sia diventato a pagamento è quasi rilevante. Strava nel mio caso serve solamente come aggregatore di dati, non so in effetti con quale orologio possa correre il giorno successivo e di conseguenza ho bisogno di uno strumento che mi consenta di aggregare tutte le informazioni. Al tempo stesso, ovviamente lo sapete, lo utilizzo anche per tenere traccia delle scarpe sebbene attualmente non esiste ancora una funzione che consenta di aggiungere una nuova scarpa a partire dal dispositivo mobile. Infine Strava mi piace perché consente di interagire con persone che non avrei altrimenti conosciuto, che hanno le mie stesse passioni e con le quali posso condividere informazioni che altrimenti non potrei condividere. Quindi il mio consiglio è di utilizzare Strava soltanto a fini social. Se volete invece visualizzare dei dati, Final Surge o Run Analyzer sono gli strumenti adatti. In effetti i percorsi li pianifico con Footpath oppure con Komoot e per quanto riguarda l'analisi della potenza, Final Surge oppure addirittura Strive e RunScribe. Di conseguenza continuerò a utilizzare Strava anche perché ricevere un cudo alla fine dell'allenamento o piuttosto che di una maratona molto difficile è una sensazione unica, almeno secondo gli psicologi affermati. E con questo è tutto. Nei prossimi giorni parleremo ancora di Skechers. Non dimenticatevi che comunque venerdì e sabato parleremo di Nike con una doppia recensione sicuramente imperdibile. Ciao, a presto!